buongiorno amici di mrtv e benvenuti a medium e in vista della tornata elettorale del prossimo 3 e 4 ottobre andiamo a conoscere meglio i candidati romani per la lista rinascimento sgarbi cambiamo roma e lo facciamo insieme a gioia del magaldi buongiorno gioia e benvenuto ciao serena salve a tutti eccoci qui e diamo il benvenuto ovviamente al candidato franco de jana buongiorno franco benvenuto buongiorno a tutti buongiorno allora io come sempre lascio ovviamente la parola a joele e a franco il candidato e sentiamo ovviamente cosa franco da proporci allora io direi ribadire questo lo fa un cappello introduttivo che faccio per tutti ricordo che il movimento roswell di per sé e metà partiti che politico culturale si colloca in un orizzonte progressista ma che travalica le distinzioni centrodestra centrosinistra e che a roma per roma per il governo futuro di roma capitale il movimento ha stretto un accordo politico con rinascimento di sgarbi e quindi con la lista rinascimento sgarbi che abbiamo roma questo accordo in realtà va oltre le elezioni amministrative è un accordo strutturato che poggia su comuni basi culturali e divisione politica e sociale e abbiamo individuato nove candidati vi presenteremo questi nove candidati che sono rappresentativi di diverse istanze importanti per roma oggi siamo con franco de jana franco de jana rappresenta per noi il l'offerta politica richiediamo la una preferenza per lui e poi vedremo che è associato anche ad un'altra candidata alessandra balzano sapete che la preferenza può essere data in modo diciamo a due persone un uomo e una donna franco de jana è un tecnico no come è un geometra è un uomo che conosce benissimo tutta la macchina amministrativa capitolina sostanzialmente per noi la competenza a differenza di quello che è stato per la precedente amministrazione peraltro c'è un episodio clamoroso eh che è successo chi ha chi ha sentito chi ha sentito una video intervista luciano vattilana nella rubrica sul pezzo di sabato ha potuto vedere come eh il lo scandalo delle delle affrancazioni a roma con l'inefficienza eh la pigrizia l'inettitudine del dipartimento di urbanistica ha prodotto stava producendo dei drammi siamo intervenuti e ehm ieri eh luciano vattilana che era protagonista di quel di quel video denuncia ha ottenuto in mano la determina eh e miracolosamente in in 48 ore la la determina che riguardava il suo problema con le affrancazioni un problema che riguarda migliaia di famiglie è stato risolto e sappiamo che centocinquanta famiglie hanno avuto lo stesso ristoro e pare che adesso gli impiegati di quell'ufficio si siano messi a lavorare e che la stessa raggi voglio dire si sia eh come di elettrizzata per la paura delle conseguenze di questa di questa nostra denuncia quindi siamo molto contenti dell'intervento risolutivo ma voglio dire per evitare che nel prossimo futuro riaccadano cose del genere bisogna mandare in consiglio comune recente come Franco Dejana ripeto si tratta di una persona che conosce da tanti tanti anni tutta la macchina amministrativa romana in eh segmenti peraltro c'è un segmento quello dell'edilizia dell'urbanistica che è fondamentale e e da questo punto di vista anche la candidata poi vedremo le sue specificità la candidata che va in ticket con Franco Dejana Alessandra Balzano ha da dare un grosso apporto ma insomma Franco è ehm la persona giusta al momento giusto per passare da una Roma fatta di incompetenti di scarsità di divisione di eh scelte veramente eh fatte eh eh secondo criteri demagogici insensati anche nella nella proprio nella definizione dei ruoli ad una ad una Roma capitale dove ciascuno stia al suo posto e sia valorizzato al meglio per quello che sa fare io comunque ehm do la do la parola a Franco che ci dica comunque perché perché eh le persone dovrebbero dare la preferenza a lui eh eh io ho spiegate diverse di ragioni ma occorre sentirlo dalla sua viva voce che io ritengo che in questi ultimi anni ehm si è veramente toccato il fondo nel senso che io frequentando assiduamente gli uffici delle istituzioni a livello comunale vedo un abbandono totale su su molti fronti cioè al dipartimento nono il pao l'ufficio condono lo stesso discorso che dicevo canzi sulle affrancazioni ventiquattro mila o ventisettemila pratiche abbandonate a se stesse di gente che aspetta come per dire i 600 mila pratiche di condono dei duecento ventitremila protocolli ingecenti in attesa di definizione eh all'ufficio condono che aspettano cittadini disperati che non possono commerciare con il loro immobile perché non hanno la concezione sanatoria e questo purtroppo a distanza di 35 anni da quando si raccontano dell'85 stanno ancora aspettando eh di tutto questo mi sembra una cosa talmente assurda e negli anni nostri stiamo ancora in attesa della soluzione di questi di queste situazioni di queste pratiche e potrei dire tante altre cose non riferito solo la parte amministrativa tecnica ma altre cose che sappiamo noi tutti i cittadini delle anomalie che abbiamo in questa città oh e quindi eh sostanzialmente nei primi cento giorni se eh questa è una domanda che viene fatta anche ai candidati sindaci no ma se tu entrassi in consiglio comunale la tua eh battaglia quali sarebbero le priorità cosa andresti a suggerire al consiglio e al sindaco stesso sia che ti trovassi in eh maggioranza come auspichiamo sia che fossi all'opposizione ma sicuro anche ieri abbiamo fatto un incontro con Enrico Michetti riguardanti proprio questo argomento delle affrancazioni del condono eccetera e abbiamo anche lì stabilito di creare una task force immediata per la definizione celere di queste pratiche cioè trovare dei sistemi di eh come dire semplificazione ma non come è adesso insomma è stato improvvisata dall'amministrazione attuale che non funziona ma con un sistema più snello più veloce di dare le concessioni soprattutto a quelli come nel 85 che insomma io a Dio dovrebbero aver risolto velocemente questo problema insomma questa secondo me nel è uno degli argomentazioni che io farei immediatamente partire dalla dalla nuova giunta insomma anche perché appunto tu lo hai ripetuto spesso in campagna elettorale Roma eh ha due grandi industrie eh che sono l'edilizia e il turismo quando parliamo di edilizia dobbiamo pensare per i prossimi anni non tanto a nuove costruzioni e c'è un problema anche di se vogliamo di dare alla grande bellezza no restituirla eh eh e liberarla di alcune brutture ma io credo che la grande sfida sarà quella di ristrutturare di eh no eh quasi insomma in certi casi buttare giù dove già è costruito e ricostruire in termini ehm più più armoniosi con l'ambiente con l'urbanistica secondo un piano Roma si è sviluppata eh in modo talvolta selvaggio in modo improprio però questo significa mettere insieme le esigenze di un settore importate trainante come l'edilizia in modo virtuoso e le esigenze di una Roma sempre più bella sempre più ordinata sempre più capitale ed Italia e grande metropoli europea eh fruibile anche dall'altra grande industria che è il turismo insomma quindi ehm chi secondo me chi ha in mente una ridefinizione del rapporto del cittadino con gli uffici capitolini e un rilancio adeguato del settore dell'edilizia ma questa volta in modo virtuoso non può che trovare in Franco Deiana un terminale utile ecco perché io invito senz'altro a ehm a dare la preferenza nell'ambito a votare la lista rinascimento sgarbi cambiamo Roma se è possibile a votare anche il candidato sindaco Michetti ma lo ribadisco si può anche dare voto disgiunto noi eh auspichiamo di no e anzi eh e cercheremo di convincere del fatto che i i sindaci gli altri tre sindaci possibili Virginia Raggi ha già dimostrato di demeritare ehm gli altri due sono persone che hanno già lavorato nelle istituzioni dando scarsa prova di sé parliamo di Gualtieri come ministro dell'economia e eh personaggio voglio dire ben conosciuto eh eh nei nei negli uffici europei eh eh parliamo di Calenda che ha fatto il ministro dello sviluppo economico senza sviluppare alcunché per il sistema Italia e l'unico che è vergine da questo punto di vista che vanta delle competenze sicure Enrico Michetti detto questo se proprio non ce la fate a primo turno a votare Michetti lo volete votare al secondo turno potete però scegliere anche voi che magari siete degli indecisi o siete un elettorato di centosinistra potete scegliere la lista di rinascimento eh Sgarbi Cambiamo Roma che dietro ha un movimento politico metapartitico ma sicuramente progressista come il movimento Roswell e dare la preferenza se specialmente se vi interessano i temi che abbiamo oggi affrontato a Franco Dejana eventualmente associando il nome eh in ticket di Alessandra Balzano io eh appunto ringrazio Franco se vuoi aggiungere altro ma mi sembra eh che abbiate tutti capito una cosa Franco è uomo eh di eh non di poche parole perché chi lo ha ascoltato parlare più a lungo in altri contesti eh anzi ha sentito un'articolazione lunga in questo caso il messaggio è rapido è una presentazione che facciamo del movimento Roswell ma è andato subito al punto cioè ha toccato due tre punti che da soli basterebbero a rigenerare Roma quindi se vuoi aggiungere qualcosa ma io sono già soddisfatto così però a te diciamo che hai detto te poc'anzi il mio obiettivo è quello di riportare le due industrie di Roma e il turismo all'apice di come erano una volta nei fasti suoi nelle giuste posizioni che merita questa città benissimo grazie a Franco e buon voto a tutti grazie allora ringraziamo Franco Dejana per averci chiarito i punti del programma che lo contraddistinguono e grazie a Giole Magaldi e ricordiamo appunto che Franco Dejana si candida con la lista Rinascimento Sgarbi Cambiamo Roma con Enrico Michetti sindaco e quindi smettiamo di far attendere i cittadini con tutte le pratiche in sospeso snellendo le procedure e accelerando i tempi di risoluzione rimanete con noi per conoscere gli altri candidati Buona giocata a tutti.